Bisogna aspettare quel tempo esatto che sta fra la fragola e la viola. Quel tempo di silenzio che sta fra il mondo e la luna piena. È lì che noi ci troveremo a sospirare e a ridere di quel cielo buio che non ci ha fatto vedere quel tempo esatto, che sta fra il sorriso e il pianto. Ci abbraceremo e ci cureremo l'animo. Ci cureremo l'animo con l'aglio e le spremute d'arance. Ci baceremo di baci di fragole, di viole. E finalmente sarà lieve il tempo e ci farà sognare sogni mai sognati. Però bisogna aspettare, bisogna avere pazienza, bisogna aspettare quel tempo esatto. Non l'abbiamo aspettato a quei tempi e alla fine ci siamo curati. Ci siamo curati. Il teatro, le cose che mi ha fatto, ci sono servite per curarci. Quando sono venuto qui al nord avevo 13 anni. Prima esiste un mondo. Esiste il mondo del sud, della Lucania. Esiste il mondo di uno zio straordinario, di un papà altrettanto straordinario, di una mamma. Quasi fosse uscito da una favola, lo racconto anche ai bambini quando faccio le storie, perché sono figlio alla fine di una lavandaia e di un panettiere. Lo zio è molto importante perché è lo zio che mi ha insegnato i ritmi e la tensione della comicità. Era uno zio straordinario. Suonava l'armonica bocca, raccontava storie. Era calvo, ma portava sempre un pettine con sé. E faceva il panettiere. Poi c'è stato tutto l'avvento del teatro e delle attività fatte per i bambini. Per me, importantissime. Perché ho scoperto nell'infanzia un luogo di grande filosofia, di grande poesia, di grande sapere. Di grande stupore, di meraviglia. E lì ho tinto tantissimo. Ho tinto tutto un percorso che sto facendo tuttora di concepire e porsi all'interno della vita l'idea di rimettersi ed ammalarsi di meraviglie. A fare in modo che la meraviglia, la curiosità e lo stupore si ricolleghi nuovo a noi stessi, che rimette in moto un'energia, la meraviglia come energia, la stupore come energia. Oggi faccio un lavoro che si chiama Quattro passi, piccole passeggiate per sgranchirsi l'animo, in cui la passeggiata per me è un'opera d'arte. Lo stare insieme alla persona è un'opera d'arte. Non penso che il teatro, di fare le grandi opere. Penso che rieducarsi alla relazione sia davvero il luogo dell'arte. Sicuramente non abbiamo bisogno di artisti che sono in grado di fare le grandi e belle opere. Abbiamo bisogno di persone. Se poi un artista è anche una persona benvenga. Persone che sono in grado di relazionarsi, di parlarsi e di dirsi. E di, sì, forse sì, anche questo, è di darsi una mano. Di darsi una mano. Di pensarsi sempre come ponti, darsi una mano per fare in modo di attraversare questa nostra epoca così difficile, insomma. Si riduce, diciamo, la comunicazione. Non si parla più al grande pubblico e di questi grandi temi. Diciamo, diventa qualcosa di più privato alla rivoluzione. Si parte proprio da noi, dal nostro interno. Tenendo presente che secondo me, in fondo, penso ancora che un buon teatro, che raccontare una buona storia, in qualche modo semini nel cuore delle persone, semini qualche cosa di importante. Un po' ci credo ancora, insomma, no? Però bisogna imparare a, come fa lo scogliattolo, bisogna imparare a essere smemorati. Cioè, lo scogliattolo fa una cosa bellissima. Lo scogliattolo prende, è una grande lezione, lo scogliattolo prende le tue noccioline, le sue cose per passare l'inverno. Più del necessario. Mette le sue riserve dappertutto. Poi utilizza l'inverno sulle necessarie e restituisce la natura a quello che non è servito. Questa è la prima grande lezione. L'altra grande lezione è che lui mette i semi dappertutto e poi se ne dimentica. Si dimentica dopo le annesse. E questo contribuisce a far crescere le foreste, no? Quindi l'idea di seminare dimenticandoti, l'oblio, il dimenticare, è molto bello, è molto importante. Perché chi semina poi osserva la pianta crescere e la innaffia e la guarda. Una grande lezione di vita anche questo. Però forse se il giardiniere, l'ortolano, il giardiniere, si dimenticasse anche dove ha piantato, forse sì anche questo. No, non è male che l'oblio è una grande forma di... Perché seminare dimenticati vuol dire che non ti dà questa presunzione di dire io ho seminato. Ecco, crescerà qualche cosa. Grazie. 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 Grazie.